Collegamento scistico comelico Valpusteria, l'opera potrebbe essere realizzata attraverso il ricorso a una soluzione alternativa dopo lo stop imposto dalla sovrintendenza. E' quanto emerso dall'incontro tra Ministero dei Beni Culturali, Comune di Comelico Superiore e Comitato Pro Collegamento. Roma chiede al Comedico una revisione della seconda tratta funiviaria, quella sommitale, che porterebbe in Valpusteria. Il Ministero ha valutato il progetto di collegamento per uno dei due infianti, quello che collega verso la pusteria, e chiederebbe una modifica al progetto e ha avanzato una proposta alternativa. Il Comune, dalla sua parte, dice noi valutiamo la vostra proposta, però dovete consentirci di formulare noi una variante al nostro progetto eventuale, delle variazioni al nostro progetto. E quindi, perché riteniamo che il nostro progetto sia più valido, dimostreremo sostanzialmente con questa variante che siamo nella direzione giusta. La soluzione prospettata dal Ministero era già emersa in passato, ma in Comelico piace poco. È molto peggiorativa, maggiori costi, meno reddittilità, meno attettibilità dal punto di vista sia tecnico che turistico. Così toccherà il Comune formulare una proposta intermedia, ovvero una variazione del piano originale. Sul resto del progetto, il Ministero non avrebbe sollevato grosse obiezioni.